L'ha battuto Eh sì, questi Sai-Bai non sono proprio niente di speciale Insomma, mi pare che sappiano fare ben poco Ma come ti permette? Non scaldarti troppo, Napa Beh, se sono tutti così posso eliminare anche gli altri senza problemi Fossi in te non sottovaluterei il valore dei Sai-Bai Davvero? Lasciami andare Forza, liberati Che cosa? Oh no, Yanko Oh bene, è così che si combatte Però si è sacrificato per eliminare l'avversario Oh, poverino Niente, non respira più Ehi, ma che cosa è successo a Yanko? Perché non si rialza più? Io non ne ho idea, il cronista non dice niente Oh no, Yanko, no, ti bravo Ozzo di Yanko, ti scoggiuro Per favore non la sa più No, no, no Yanko, vico mio No, Yanko, no Perché non hai lasciato andare me Perché hai voluto proteggermi Adesso potrei essere io al tuo posto Come farò a dire a Bulma e a Buar Quello che ti è successo Dimmelo, come farò?